Musica Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG di Irpinia News. Apriamo subito il nostro notiziario con l'attualità e con il caso della funicolare a Mercogliano, chiusa ormai da più di un anno. Il sindaco Massimiliano Carullo ha incontrato nella capitale il viceministro e sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, il quale si è impegnato a portare nelle sedi governative l'urgenza di restituire alla campagna una risorsa che tutela l'ambiente e promuove il turismo. Il servizio. Il viceministro si è impegnato pubblicamente, verrà nei prossimi giorni, ad Avellini e a Mercogliano per ribadire un aiuto concreto, un contributo concreto del governo centrale alla regione campagna affinché la regione proprietaria dell'impianto possa mettere questo 1.200.000 euro per un adeguamento strutturale. Lo vuole la provincia, lo vuole la regione campagna, lo vuole il viceministro De Luca, quale grande bene e grande attrattore turistico del Mezzogiorno d'Italia. Io ho grande rispetto del senatore Vetrilla che è venuto il 25 giugno in Consiglio Comunale per far ripartire la funicolare. La funicolare è un bene di proprietà della regione campagna e il governo centrale aiuterà nella regione campagna nella risoluzione di questa problematica. La provincia di Avellino vuole e avrà la funicolare più ripida e più veloce d'Europa. Ancora attualità nel nostro notiziario. Taglia l'assistenza domiciliare stamane vertice a Palazzo di Città d'Avellino con i sindaci dell'Asla. Sergio Flori è tornato a smontare il caso annunciando però l'imminente stanziamento da parte della regione campagna di ulteriori fondi da destinare proprio al settore assistenziale che riusciranno a garantire la copertura per l'intero anno 2014. Dall'attualità noi passiamo adesso alla cronaca operazione anti-usura dei carabinieri. Il blitz è scattato nella notte in manette. È finito Gennaro Pagnozzi detto Oggiaguaro. Con Pagnozzi sono finiti agli arresti il fratello Paolo, la figlia di Paolo Giuseppina e il marito della donna Franco Riccardi. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Negli ultimi mesi l'attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino è stata focalizzata anche al contrasto di episodi usurai in tutta la provincia. In tale contesto sono partite indagini sin dai primi mesi, nel corso delle quali sono state individuate delle fiorenti attività poste in essere da appartenenti a Clampagnozzi e gemone della zona di San Martino Valle Caudina, che utilizzava l'usura anche per riciclare il denaro frutto di proventi illeciti. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri di Avellino hanno dato esecuzioni a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di elementi di primissimo piano del clan, da tutti riconosciuto il sodalizio e gemone in Valle Caudina e nei comuni limitrofi della vicina area beneventana. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e svolte dal nucleo investigativo hanno permesso di ricostruire un giro di usura gestito dal capo storico del clan Gennaro Pagnozzi, detto Giaguaro, in danno di imprenditori e semplici cittadini in grave difficoltà economiche che chiedevano prestiti oscillanti fra i 1.000 e i 25.000 euro con tassi di interesse che arrivavano al 120% annuale. Due notizie di sport. Prima di chiudere il nostro OTG, il patron della Sidigas, l'ingegnere Gianandrea De Cesare, annuncia provvedimenti disciplinari nei confronti di Will Thomas, il giocatore che, secondo le parole del coach della Scandone, Franca Vitucci, avrebbe minato la serenità della trasferta dei Lupi a Reggio Emilia, gara poi persa. Intanto si lavora per preparare al meglio la prima gara del girone di ritorno. Capitana Spinelli e compagni saranno chiamati a giocare ancora una volta in trasferta in casa della VL Pesaro. Giornata di fede, dedizione, sport e aggregazione sociale. Quest'oggi a Montevergine che ha visto l'arrivo dei calciatori dell'Avellino in visita presso il santuario di Mamma Schiavona. Con loro anche il patron bianco-verde, Walter Taccone. Ascoltiamo uno straccio dell'intervista realizzata proprio al presidente dell'Avellino. Dovunque andiamo troviamo un grande attaccamento a questa squadra, a questi colori sociali e naturalmente oggi, giornata di grande fede, di grande dedizione, i ragazzi li ho visti comossi, li ho visti praticamente, anche perché l'abbate ha spiegato al sindaco di Mercogliano, hanno spiegato il valore dei lupi, hanno spiegato tutta una serie di cose che evidentemente chi non è di Avellino non conosce. Così come non si conosceva il fatto che è tornata finalmente nella sua sede istituzionale la Madonna e quindi è uno spettacolo vederla. Io non la vedevo da un po' di anni per la verità e sono rimasto praticamente colpito perché è uno spettacolo incredibile. E con le parole di Walter Taccone noi chiudiamo questa edizione del notiziario dalla redazione di Irpina News, l'augurio di una buona serata.